2, 1, vai! 100, destra vai e 100, dosso dritto sfiora balla in subito, destra 4 su ponte, destra 4 su ponte in sinistra vai e per destra 4 meno, in sinistra 4 apre, 4 meno, sinistra 4 apre, destra 4, ok per sinistra 4 meno, meno, per destra con dosso interno, destra con dosso interno 50, subito tornante destro, tornante destro per sinistra vai, in destra vai su dosso, destra 3 no, destra 3 no, in subito tornante sinistro stretto, tornante sinistro stretto destra in sinistra 4 sotto albero 50 e destra 4 e attenzione attenzione subito tornante destro sinistra 4 sfiora 50 agli alberi attenzione destra 4 in sinistra 5 tagliale e attenzione attenzione anticipa sinistra 2 lunga, tagliale e anticipa sinistra 2 lunga e destra vai, in sinistra 4 dosata, destra vai, sinistra 4 dosata questa eh, in destra 4 lunga lunga e attenzione agli alberi destra 2, destra 2 50 sinistra 4 meno lunga centrale al vuoto sinistra 4 ancora per destra 4 meno no, in sinistra 4 destra 4 apre 150 destra vai, 50, attenzione attenzione alle balle, sinistra 3 sfiora per destra 3 è lunga in sinistra 3 in sinistra 3 chiude 3 chiude sesole destra 50 e agli alberi sinistra 4 e attenzione attenzione alle balle, destra 3 meno su ponte in sudosso sfiora scusa in sinistra 3 onda in destra 3 in sinistra 3 ancora e subito sfiora a balla per anticipo inversione destra 50 sinistra 4 in sinistra 4 ancora 50 alle rocce adesso 5 su dosso e 50 e 30 alla casa destra 4 in sinistra vai e attenzione subito inversione sinistra in sinistra 4 e sinistra 4 sale sale 100 sinistra dritta in destra 4 50 fine 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 Grazie.